Le sue ripetute visite in Nagorno-Karabakh gli sono già costate quasi due mesi di calvario, ma rischia di essere solo l'inizio. Arrestato a metà dicembre in Bielorussia su richiesta delle autorità azzere, il blogger russo-israeliano Alexander Lapshin è stato ora estradato a Baku. Contro di lui l'Azerbaijan aveva spiccato un mandato d'arresto internazionale per insulti al presidente Ila Maliev e appelli all'indipendenza della contesa regione a maggioranza armena del Nagorno-Karabakh. I post di Lapshin successivi ai suoi primi viaggi sono stati cancellati, ma in un articolo dello scorso aprile si dimostrava critico dei media e dell'esercito a zero. Vana la condanna di arresto ed estradizione da parte di Tel Aviv e del ministro degli esteri russo Lavrov. Sordo agli appelli internazionali, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dato seguito alle richieste dell'Azerbaijan.